Bastava anche un articolo, un annuncio sul giornale, semplice A, 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 adorabile, cercasi Anche se poi il sottotitolo, cioè la voleva con tante qualità, non dico ne che la voleva così Bruno Martino Era esigente, era esigente Andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, 4 A, 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 adorabile, cercasi A, 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 di carattere docile Dare referenze, fermo posta Richiedesi bella, di media statura, che sappia baciare Una bambola, A, 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 adorabile, cercasi A, 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 da sposare anche subito Basta che mi ami e già fin d'ora lo so Che A, 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 adorarla saprò R su Israel A, 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 A A, B, A, 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 A Grazie a tutti 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 Grazie a tutti